Segretario, voi da qualche tempo lamentate e mancate riaperture pomeridiane in alcuni uffici postali delle aree interne della nostra regione, tutto questo dopo la fine dell'emergenza sanitaria e dopo due anni di pandemia? Esattamente così. Dopo i due anni di pandemia, dove abbiamo assistito sul territorio alla chiusura pesante di alcuni presidi sul territorio, ad oggi, senza giustificazioni almeno apparenti, continuiamo a vedere alcuni uffici che noi definiamo a doppio turno, che facevano un presidio la mattina e il pomeriggio, che operano a orario ridotto. Questo evidentemente non ha una vera e propria giustificazione, o meglio, ha giustificazioni sicuramente di altra natura, non sicuramente più riconducibile alla situazione sanitaria. Questa situazione crea evidentemente due ordini di problemi. Uno alle collettività, lì dove sono presenti questi uffici, prevalentemente concentrate nelle aree interne della nostra regione, dove abitano, lo ricordiamo, circa il 40% della popolazione, che si aggiunge ovviamente a quelli che sono già i disagi per la mancanza di servizi e di infrastrutture all'interno di queste aree. E l'altra, evidentemente, che è quella che più interessa a noi come organizzazione sindacale di categoria, è l'impatto che ha sui lavoratori. Questi lavoratori vengono trasferiti, diciamo, mandati in trasferta su altri centri, su altri uffici e evidentemente questo mette in luce la mancanza strutturale di presenze sul territorio. Natale, voi avete avuto già diverse interlocuzioni con poste italiane. Quali sono state le risposte che avete avuto? Sostanzialmente la risposta delle direzioni provinciali, quelle che di competenza, l'Abruzzo, la Perchieti, l'Aquila, la Prescala, Teramo, le risposte sono state all'incirca unanime, quelle che comunque di competenza, di poste italiane e SPA Roma. Loro qui non possono prendere decisioni su uffici aperti o da chiudere. Come diceva prima il Segretario, noi siamo fortemente convinti che il problema sia la mancanza di personale, nel senso che poste non ha abbastanza organico per poter tenere aperti tutti questi uffici che attualmente sono chiusi. Non ci diamo altra risposta, se non questa, perché dato anche il fatto che l'emergenza sanitaria si è praticamente conclusa, si dovrebbe tornare a un periodo pre-Covid. Grazie a tutti.